La piccagna polacca arriva dalla grande distribuzione, quella argentina da Mareczart, chi vincerà l'epica sfida? Argentina-Polonia? Scopriamolo, dopo quelle mondiali che finì 2-0 per l'Argentina. L'Argentina si presenta così, ha una pala Black Angus, ragazzi, guardate che bella, siamo intorno a poco più di un chilo, pazzesca. La Polonia invece si presenta così, un chilo e 520 grammi. Ragazzi, dimenticavo in mente, adesso vi faccio vedere come lo metto dentro quella argentina, faccio la medesima cosa fino alla scanalatura. Guardate che meraviglia, adesso la taglio e poi l'assaggio. Argentina-Polonia? Vincere l'Argentina, arriva il video.